Sì, 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 giusto, giusto. Veloce, veloce. Molto, molto. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Rapidi, rapidi, rapidi. Noi copriamo di fronte, vai. Se dovete coprire questa zona è anche lì. Due coprono di fronte e due a sinistra. Chi è quello sdraiato? Dica che stai a poter me adesso. No, è il nostro che attacca, è il nostro che attacca. Dai, alzatemi in piedi, su. No, no, quella è lì. Sono nemici, ragazzi. Dove? Sì, lì. L'ho messo da qui e guarda. Facciamo poche coperture con questo giro. L'unica cosa è sfondare le case e le lancio dal borsetto, per forza. Sfondate casa. Dai. Sfondate dentro, vabbè. Venite giù da noi, Federico. Venite con noi. Tanto se scendete da lì, va a mattinare uno a uno. Ragazzi, a tirare un po' il fuoco di là. Avanti. Andiamo a coprire quei nostri, dai. Cuori uno. È morto. 20 minuti da adesso! 20 minuti da adesso! Occhio, le mie stanno sotto, stanno tutto qua. Stanno sotto. Stanno sotto. Di fronte, regà, ozio, di fronte Dai, 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 ci danno copertura, avanziamo dentro Dai, andiamo, andiamo, andiamo Attenzione, attenzione a poco, amico, eh Dai, 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 senti che ci copre Copri, eh, già Copri, copri, eh Coprite, regà Avanzate, avanzate, avanzate Coprite, coprite Occhio di qua, occhio di qua Ho preso uno là, regà Potete avanzare davanti, eh Qualcuno là sotto, sotto a sto coso No, per favore Per favore Me lo vengo a mettere la larga Vai Non c'è, non c'è Ma, altrimenti si stanno chiedendo Prendiamo, ne stiamo lette perchè stavano chiusi da lanti c'è un sampcian avanza piano piano verso l'angolo perchè c'hanno le pietre chiusi che devo fare? io no tanti saluto dove? la voglia rosso? si si ok qual'è? c'è un forno che sta a coprire qual'è quella merda? la prima io devo provare un forno che sia si bravo ditemi voi occhio che lo prendete non lo prendete non lo prendete non lo prendete non lo prendete io vengo io non lo prendete coprire questa coprire questa non lo prendete buoni buoni fermi almeno li imboccavo dentro la finestra Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, sono lungo la nonna, aspetta non so se stanno qua giro questo muro, ricarico Aspettate, aspetta, 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 quante, quante mure c'è stanno dentro sta casa? preso dai o quello la che stai fra te io ho paura di qua dentro siamo tutti quanti che ci coprono no è che avessi ne ha fatto a moto qua si farà addosso il muro no no non c'erano le fascette blu e rosse non vuoi mangiare ma non vuoi mangiare ma non vuoi mangiare ma non vuoi mangiare ma non vuoi mangiare ci sembra che ci siano loro li ho facciato qua non ce la faccio non ce la faccio mi sono sparato eccolo l'ho visto la sopra al tetto si è barricato questo qua questo qua questa casa all'ultima occhio non ce la faccio stiamo sparando si 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 una vieni vieni non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio per prima penso eh ho eliminato quello che ci stava dentro non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio insomma non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio Non c'è nessuno più, non c'è nessuno più, ci sta allora, ce ne sta, uno su, allora, avete visto la casa quella alla, che fangolo qua, c'è sta uno sul tetto, un cecchino sul tetto barricato, su sto tetto qua, poi ce ne sta uno dentro dove, la casa dove metto io la roba, l'ho visto, l'ho visto, sta dietro la casa rossa, ti rinvaso eh, no, ti rinvaso, dove cazzo, ah, ecco, oh, è sul pallino, che bevà, attenzione, 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 ah, ho capito dove sta, dentro la finestra, guarda, mi ha passato tanto il fucile, sta merda, però va a fare una cosa un po' strana, Rossa, qua, sono morto. No, ragazzi, di qua cikna d'altra uscita, posso essere solo la finestra, no, no, c'è, dentro la città rossa, quella rossa, chiudi un attimo la porta vedi? entra la finestra dentro ehi come ne da oh perché dove stanno non me lo ricordo chiede a giacomo ah quella la ma tu spara al massimo si ma io devo alzare dai dai con me come fa ad arrivare qua con i pallini giù 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 vai 10 minuti no no ci stanno già ci stanno i nostri dai sì 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 se mi spara prima fede là dentro sta dentro casa là dove stai tu all'attacco contro i rossi e contro i blu si che spara ma c'è un posto per passarlo a mezzo ragazzi abbiamo 10 minuti sbrighiamoci occhio all'affiaco occhio a quella casa non c'avevo con te già ma c'è un posto per i rossi non c'è un posto per i rossi non c'è un posto per i rossi un posto per i rossi ragazzi c'è una radio da un attimo un occhio qua sopra coprite qua sopra no io sbucamo proprio dalla dietro da un uso dalle due macchine Ah io pure, vai dove sta? dove sta? l'hai visto? l'ho preso dai ho fatto due sfidate no, no, solemo qua, solemo qua l'ho preso dai attenzione, c'è qualcun altro io l'ho preso dai l'ho preso dai io vorrei vedere un attimo ci sta un giocchino? occhio occhio l'ho preso dai no, ma ci metto un altro pure dall'altra parte lascia un dato l'ho preso l'ho preso, l'ho preso occhio, salite, salite, salite dai dai che lo distrago salite l'ho preso con l'ho preso, l'ho pas l'ho preso, l'ho preso, la va ruot da i mi si l'ắpre Grazie a tutti